ciao a tutti e bentornati sul canale oggi vi faccio vedere una delizia vi faccio vedere come fare il caramello salato il caramello salato può essere utilizzato sui brownies sui pancakes all'interno delle torte nelle mousse come preferite ed è davvero molto semplice da realizzare questi sono gli ingredienti di cui avrete bisogno la prima cosa da fare è mettere lo zucchero semolato all'interno di un pentolino possibilmente antiaderente insieme all'acqua andremo a far sciogliere lo zucchero quindi accendiamo il fuoco e qui ci servirà una spatola di silicone e possibilmente un termometro da cucina all'inizio mescolate pochissimo lo zucchero per agevolare lo scioglimento dopodiché lasciate non girate assolutamente e fate in modo che l'acqua evapori completamente ci impiegherà all'incirca 15 barra 20 minuti insomma ve ne accorgerete che il caramello è pronto quando inizierà a cambiare colore ossia quando arriverà a 170 barra 180 gradi se non avete il termometro ve ne accorgerete quando diventa color ambrato quindi come potete vedere nel video diventerà più scuro a questo punto spegnete il fuoco mescolate leggermente con la spatola in silicone e sempre a fuoco spento aggiungiamo la panna che deve essere a temperatura ambiente e non è calda e ne fredda tanto il caramello è già a una temperatura altissima a questo punto riaccendete il fuoco perché la panna si deve sciogliere bene all'interno del caramello come potete vedere inizierà a fare delle bolle ma non vi preoccupate si toglieranno non appena la panna sarà amalgamata perfettamente al caramello spegnete il fuoco giusto la dovete tenere acceso qualche qualche secondo spegnete il fuoco e a questo punto quando otterrete una crema bella liscia e senza più la schiuma come potete vedere nel video sempre a fuoco spento potete aggiungerci il sale io utilizzo il sale grosso e ne metto giusto mezzo cucchiaino se non vi piace il caramello salato tranquilli potete anche non mettere il sale io ci metto anche un po di estratto di vaniglia dopodiché sempre a fuoco spento ricordo lascio un attimino intiepidire il composto e poi lo vado a mettere all'interno di contenitori ermetici in vetro questo caramello si può conservare in frigo e si conserva come una conserva di marmellata normale quindi all'incirca un mese un mese e mezzo io lo utilizzo tantissimo sui brownies ed è favoloso ragazze davvero allora fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e se vi stanno piacendo tutti i video sulle basi della pasticceria anche questa preparazione è una preparazione base della pasticceria perché può essere inserito davvero in tantissimi dolci o in tantissime mousse io vi mando un grosso bacio e aspetto i vostri commenti fatemi sapere se lo fate ci vediamo presto in un prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.